Ok, allora prima di tutto salve, mi dispiace non essere lì con voi fisicamente, viviamo tutti dentro questo schermo, però speriamo di uscirne prima o poi, io sono abbastanza fiduciosa. E oggi un po' parleremo di memoria, di storia, di multiculturalismo, transculturalismo, però parleremo anche di Bridgerton, io ve lo vi avverto, credo che qualcuno di voi ha visto la serie Netflix, perché in qualche modo il mio libro ha, in un certo senso, si lega a tutto questo movimento che c'è, soprattutto nei paesi anglofoni, di rivedere il passato, non riscriverlo, badate bene, ma di tirarlo fuori, perché se avete visto la serie Bridgerton, che poi è molto leggera, a me mi ha divertito molto, però loro cosa hanno fatto? Hanno preso un casting, hanno mischiato le persone nere che uno teoricamente dice nell'Ottocento non c'erano, invece oggi vi farò vedere come c'erano, e soprattutto hanno preso un personaggio reale, la regina Charlotte, che veramente, probabilmente era afrodiscendente, quindi non è che l'hanno messa lì a caso con quel colore, con quella messa in scena, insomma è molto interessante quello che anche sta succedendo nelle serie TV, eccetera. Quindi io un po' parlerò anche di questo. Allora, però, questo libro, vi faccio un piccolo riassunto, forse alcuni di voi l'hanno letto, altri no, è un libro che ha due, prima di rispondere alla domanda, due piani. Uno ottocentesco, dove c'è questa eroina afroamericana che vive negli Stati Uniti e decide, non è che decide, riesce a arrivare in Italia, perché come, non so se avete mai letto Piccole Donne, che è un libro che quando ero io piccola si leggeva, adesso non so tanto, però ecco, in Piccole Donne c'è un personaggio, Amy, che viene spedita in Italia, in Europa, perché comunque in Europa si diventava artisti, e soprattutto in Italia si diventava artisti, quindi lei ha questo sogno di diventare pittrice e arriva in Italia, con tutte le difficoltà del caso, perché non è Amy a partire, è una ragazza nera, quindi è una ragazza nera nell'Ottocento. Voi sapete che nell'Ottocento ancora, no, c'era la situazione schiavistica, comunque non era molto semplice. E dall'altra parte c'è invece una donna moderna, una curatrice d'arte, che studia questa pittrice, perché è passato più di un secolo, però nel frattempo ha la sua cugina che viene dalla Somalia, cioè quindi i viaggi della migrazione di oggi. Cioè questo libro io l'ho scritto per il viaggio, per capire come mai la gente continua a morire nel Mediterraneo, come mai i nostri passaporti sono così diversi, cioè il nostro, io ho un passaporto italiano come voi, perché sono nata a Roma, ecco il nostro passaporto italiano ci apre le frontiere, prima del Covid naturalmente, però avere un passaporto africano o comunque Somal o del Bangla, ecco non ti apre nessuna porta, tu non puoi andare da nessuna parte e quindi per viaggiare, per muoverti devi pagare i trafficanti, ti devi far ammazzare, cioè delle cose terrificanti. Quindi io volevo capire come mai due pesi, perché una cosa che dovrebbe essere uguale per tutti non lo è. E soprattutto noi possiamo pensare, pre-pandemia potevamo andare in qualsiasi posto, già con la pandemia abbiamo capito quanto sono fisse le frontiere, addirittura non solo tra stato e stato, tra comune e comune, e invece per molte persone questo stato che noi viviamo adesso nella pandemia era uno stato permanente, ma non è sempre stato così. Quindi io, è un libro che ho scritto sul viaggio, perché ho aperto ed arrivo alla domanda con il colonialismo, poi vi faccio vedere delle immagini dopo così è un po' più interattivo, perché io mi occupo molto del colonialismo, che cos'è il colonialismo è quando qualcuno va a casa di un altro e si prende tutto, nel senso quello che hanno fatto i paesi europei con l'Africa e l'Asia, sono andati là dove c'erano delle popolazioni, gli hanno detto tu sarai il nostro schiavo, gli hanno assoggettati e quindi le persone che sono vissute là non avevano voce in capitolo in qualche modo, perché gli prendevano le risorse, li rendevano schiavi, questo è stato il colonialismo. Ed è stato soprattutto, è cominciato con la cosiddetta scoperta dell'America, che non era una scoperta ma era una conquista, perché non è che sei andato lì pacificamente, e nell'Ottocento con la rivoluzione industriale insomma si sono spartiti pezzi di mondo. Io vi faccio notare una cosa, un giorno pensate, mettetevi davanti alla mappa dell'Africa e vedete come sono disegnati i confini, cioè è un esercizio molto utile, perché se guardiamo i confini dell'Europa sono tutti frastagliati, tutti divisi, tutti rotondi, quelli dell'Africa così, sembrano quasi quadrati, no? Perché? Perché erano i domini coloniali, no? Allora per me era molto importante iniziare questo libro quando l'Italia in qualche modo diventa anche lei una potenza coloniale, e Dogali è una sconfitta, tra parentesi questo Dogali imperversa per tutta l'Italia perché è una sconfitta che è stata resa martirio dalla propaganda dell'epoca e quindi per tutte le città italiane trovate o un obelisco o una targa. A Roma per esempio c'è la piazza dei Cinquecento, c'è anche l'obelisco, quindi in un certo senso se uno fa caso allo spazio urbano che viviamo quotidianamente, queste tracce di colonialismo ci sono. Allora poi io volevo con questa scena un po' fare la presentazione della mia eroina perché si fa una lunghissima passeggiata da la tomba di un poeta inglese, Kitz, che si è portata a Roma, fino a Piazza Colonna che è al centro di Roma, ma nel giorno in cui arriva la notizia di questi morti italiani in Africa. Quindi lei che stava bene a Roma, perché fino a quel momento stava bene, comincia, il libro comincia proprio dalla fine, comincia a inclinarsi un rapporto. Quindi per me era molto molto importante questo, era anche molto importante far capire che questo colonialismo non era solo fascista, ma era anche prima dell'ottocentesco. Quindi è un'apertura che in qualche modo presenta l'eroina, ma presenta anche una problematica che comunque ha delle conseguenze anche oggi. Cioè il sud del mondo, il sud globale, cioè chi ha subito colonialismo e schiavitù, ancora se la passa molto male. E quindi era un modo per dire, guardate che non è finita questa storia. Lei ha parlato del tema del colonialismo, e il colonialismo possiamo dire è una delle forme in cui si declina il razzismo. Nel libro però compare anche lo schiavismo attraverso la storia della protagonista. Quali sono, come dire, se confrontiamo queste due forme di declinazione del razzismo, le conseguenze che hanno nei singoli paesi? Scusate, adesso rimbombo un po'. Mi sentite adesso? Sì, sì, la sentiamo. Allora, io vi faccio vedere un po' di immagine anche, perché questa domanda sulla schiavitù è molto importante. La mia eroina non è schiava, perché io viveva nel nord degli Stati Uniti e in qualche modo è una nera libera, perché c'erano un gruppo abbastanza nutrito di neri liberi che si erano emancipati e che lottavano insieme anche ai bianchi un po' aperti contro la schiavitù. Infatti Edmonia, Louise e Sarah Park Raymond, che sono le due ispiratrici, poi ve ne parlo, erano in questo entourage di donne bianche che lottavano contro la schiavitù. Allora, la cosa che io ho voluto fare in questo romanzo è proprio mettere un po' di complessità ai personaggi. Allora, prima di rispondere alla domanda vi faccio vedere un po' di immagini, perché così capiamo meglio. Io mi sono ispirata, io questa storia dell'euroina afro-americana, non è che me la sono inventata, mi sono ispirata a due donne veramente esistite. Una è questa che vedete, Edmonia e Louise, che ha vissuto veramente a Roma, era una scultrice, era libera, però appunto venuta qui e grazie agli abolizionisti, Mi permetto di interrompere, però non vediamo le immagini. Sì, sì, si vede, perfetto. Ok, perfetto. Allora, praticamente vi stavo dicendo che lei era appunto una scultrice e abolizionista, cosa significa? Che lottava contro la schiavitù ed era in un gruppo di donne con cui aveva un rapporto abbastanza ambiguo, perché da una parte aveva bisogno di soldi per fare la scultrice e quindi era sempre lì a chiedere i soldi a queste dame, che non sempre l'aiutavano, perché sì, erano contro la schiavitù, ma erano anche, però tu sei comunque inferiore a me, io sono bianca, tu sei nera. C'era questo rapporto abbastanza ambiguo. Queste sono le sue sculture, lei era la scultrice neoclassica, però ecco, dai temi delle sue sculture si capisce un po', perché questa è Cleopatra e questa Agar, che era una schiava nella Bibbia, quindi si capisce un po' cosa voleva fare. Questa statua si chiama Forever Free, per esempio, è proprio lo schiavo che spezza le catene. Però chiaramente, guardate le forme, sono forme molto neoclassiche, molto caucasiche in un certo senso. L'altra invece è Sarah Park Raymond, che era appunto, lei è direttamente un'abolizionista, fatta di una famiglia di abolizionisti, che voleva combattere appunto contro la schiavitù, faceva proprio conferenze in giro per gli Stati Uniti, e entrambe le due donne vanno via dall'America. Questo secondo me è molto importante da capire, perché entrambe, come la mia personaggia, io questo poi l'ho dato alla mia personaggia, entrambe subiscono un'aggressione. Sarah Parker viene letteralmente buttata giù dalle scale, perché voleva andare a sentire l'opera, lei amava l'opera Donizetti, e invece questa cosa non era possibile, tu nera non puoi amare la lirica, non puoi amare l'opera, quindi la prendono e la buttano giù dalle scale. Invece l'altra, Edmonia e Luis, stavano in un collegio in cui l'avevano accettata, tra virgolette accettavano le nere, però poi aveva avuto tutti i problemi con le sue colleghe, diciamo, di collegio, e a un certo punto subisce questa aggressione, viene picchiata selvaggiamente, tra virgolette forse ha subito una violenza sessuale, questo non lo sappiamo, e chiaramente perdono, entrambe le donne arrivano in una situazione di grave pericolo. Ecco, questo spiega non solo la schiavitù, ma spiega la condizione che dalla schiavitù subiscono i corpi neri. Voi sapete cosa è successo negli Stati Uniti a maggio scorso, è stato ucciso George Floyd davanti a tutti praticamente, ucciso soffocato, infatti lui continuava a dire I can't breathe, non riesco a respirare, ed è quella cosa che è successa a George Floyd in America, negli Stati Uniti, succede a tantissime persone, infatti la lista dei morti è lunga, Travon Martin, Breonna Taylor, che è stata uccisa sul suo letto, a casa, dormiva, è stata crivellata di colpi, quindi sono state tante le persone, no, che subiscono questa aggressione, e questa è una costante, voi se leggerete un libro afroamericano, se sentite il rap, per esempio Kendrick Lamar, ve lo consiglio Kendrick Lamar, qualsiasi, o anche Beyoncé, fateci caso alla produzione di Beyoncé, perché Beyoncé lavora molto, soprattutto ultimamente su questi temi, e quindi tecnicamente il pericolo, corre il corpo nero, il pericolo di perdere il corpo, è una costante, perché è una costante storica, schiavitù, segregazione, perché c'erano delle leggi che segregavano i neri, dove non potevano i neri andare nei luoghi dei bianchi, negli Stati Uniti, e poi c'erano i linciaggi, e poi siamo arrivati alle esecuzioni sommarie dei nostri giorni, quindi è una costante questa cosa qui, vorrei che fosse, diciamo, molto chiara, e questo lo è sia per i corpi degli Stati Uniti, e in un certo senso anche per i nostri corpi, i corpi che non sono afroamericani, ma che sono africani, o che sono come me, afro-europei, perché appunto io sono nata qui, quindi europea e africana, insomma, perché c'è questa paura di perdere il corpo, io non mi toglierei dalle immagini, però sentirei la prossima domanda, intanto così ve li faccio vedere piano piano. Sì, visto che lei ha introdotto il tema anche del Black Lives Matter, quindi dei movimenti di protesta che sono in qualche modo scoppiati a seguito anche della morte di George Floyd, in alcuni casi questi movimenti sono sfociati in qualche modo in quella che è stata definita una cancel culture, cioè una cultura della cancellazione, in qualche modo anche dei simboli o dei monumenti che evocavano personaggi coinvolti nello schiavismo, nel colonialismo. Qual è la sua posizione in merito a questa cancellazione della cultura legata anche a questo movimento? Allora, io non parlerei di cancellazione della cultura, già secondo me il termine è molto sbagliato, però, allora, senti sempre l'eco adesso, e praticamente quello che sta succedendo negli Stati Uniti e quello che sta succedendo in Europa sono anche due storie diverse. Allora, voi avete visto negli Stati Uniti, avete visto anche in Gran Bretagna dove a un certo punto hanno preso la Sala di una schiavista e l'hanno buttata dentro il lago, no? E mi pare che era un lago a Bristol o un fiume, forse era un fiume. Comunque, sa di fatto che non è una cancellazione. Allora, quando c'è una rivoluzione, di solito, qualsiasi tipo di rivoluzione, una rivoluzione francese, quella americana, ma anche quando è accaduto Saddam Hussein. Cioè, le statue sono le prime cose che partono, no? Cioè, la gente, perché la statue che cos'è? La statue è la personificazione dell'umano, no? È la cosa più umana, non umana, che abbiamo nello spazio urbano. Quindi, quando sei arrabbiato, vorresti buttarla giù. È chiaro che, in alcuni casi, capisci questa volontà, no? Per esempio, negli Stati Uniti, alcune delle statue, che sono state buttate giù, o meglio, non sono state buttate giù, soltanto dalla furia, molte ci sono state richieste di essere buttate giù. Per esempio, c'era una statua a Central Park, a New York, di un ginecologo, tale Sims, che faceva, considerato padre della ginecologia, è quello che ha inventato lo speculum, per intenderci, quello oggetto orrendo, che conoscono tutte le ragazze, tutte le donne. Però, tecnicamente, lui, per inventare questo speculum, per fare le sue sperimentazioni, lo ha fatto sul corpo delle schiave, senza anestesia. Quindi, è chiaro che le afroamericane, hanno fatto delle petizioni, hanno fatto anche delle performance, per esempio, c'era questa performance, molto interessante di loro, con questo grembiule, e con il macchiato di fucsia, più che rosso, per far vedere quanto, il dolore delle donne era, il dolore di quelle schiave era reale, perché morivano sotto i ferri, di questo ginecologo, e lì la statua è stata rimossa, ma è stata una cosa di partecipazione collettiva, no? Allora, è chiaro che questa può essere una strada. In altri casi, come per esempio il caso italiano, allora, voi ne avete qualcuno in Trentino, di una rinominazione delle statue, di lasciare la statua, lasciare l'oggetto, ma di costruirci qualcosa intorno, no? Perché non è che possiamo lasciare queste tracce così. Allora, il punto di rilavorare sulle tracce, secondo me, è molto interessante, perché non è la distruzione, ma è, ok, mi tengo la traccia scomoda, ma ci lavoro intorno. Poi c'è anche tutta un'altra cosa, secondo me, che sta emergendo con Black Lives Matter, e che in qualche modo, io quando è successo, mi sono detto, oddio, c'è molti discorsi simili, li ho fatti nel romanzo, li ho fatti in altre parti. Nel romanzo, io ho lavorato molto sulle tracce pittoriche, e scultore, che ci sono nella nostra Italia, di personaggi neri. Allora, vi faccio vedere qualcosa, a parte vi faccio vedere questo quadro pazzesco. Allora, questo quadro pazzesco non è italiano, è portoghese. se lo guardate, cioè, Bridgerton, era già nell'aria, in qualche modo, no? Vedete personaggi bianchi e neri, in realtà sono ebrei e afrodiscendenti, più o meno, qualche portoghese, anche, però, tecnicamente, è un quadro fiammingo, perché Lisbona, nel Cinquecento, era una città con una forte presenza nera. Allora, per farla vedere, lui la mette tutta in un quadro, e vedrete, se guardate i particolari, c'è il cavaliere, cioè, vabbè, questo che poraccio viene portato via, tipo un ladro, ci sono quelle che portano l'acqua sulla testa, che sono chiaramente schiavi, quindi vedete, sia persone libere, guardate questo, o sia persone semilibere, che guadagnano, che ne so, il musicante nella barchetta, lavoranti, e persone, però, anche che hanno fatto una certa carriera, quindi questo è il Cinquecento, ecco, come non ce lo raccontano, e questo invece è un quadro veneziano, che cito nel libro, è molto, è pieno di cose, perché se siete stati a Venezia, quella è Rialto, Rialto prima era di legno, e ci sono due centri grossi, c'è stato, cioè, ci sono anche adesso, adesso più, forse turistico, però, San Marco era politico, e Rialto era il cuore commerciale della città, e ecco, in questo telero, pieno di gente, c'è lui, ed è pazzesco, e lui è un gondoliere nero, oggi i gondoliere neri non ci sono più, però all'epoca c'erano, ed era una posizione intermedia, tra l'essere schiavo, e l'essere libero, e questo è la veronese, vi faccio vedere questo, il quadro di Lotto, che si trova, e questo l'ho dedicato, un bel po' di pagine, perché è pazzesco, la scena principale, è quella centrale, la santa, il tribunale, le persone, che la vogliono trascinare al martirio, però, al lato, c'è questa piccola schiava, che ecco, il personaggio, ed è, ha molta paura, ha paura che quel bambino, irrompe nella scena, ha paura di essere punita, è comunque, un personaggio molto interessante, e questo invece, è la statua, la fontana, del romanzo, praticamente, io volevo, in qualche modo, lavorare, sulla schiavitù mediterranea, e vi faccio, allora, la schiavitù mediterranea, non pensate che sia, come quella atlantica, cioè, quella verso le Americhe, quella è stata industriale, i numeri erano massicci, però, nella storia d'Europa, ogni tanto, spunta uno schiavo, che può essere nero, che può essere turco, che può essere arabo, che può essere greco, allora, questo perché, le due coste del Mediterraneo, si, facevano molto la guerra, di pirateria, e quindi, ogni tanto, venivano assalite le navi, come nel film, o quello di Johnny Depp, no? Pirati nei Caraibi, in realtà, pirati nel Mediterraneo, ce ne erano tantissimi, infatti, qualcuno dovrebbe farci, qualche serie tv, secondo me, anche lì, e, tecnicamente, questi pirati, portavano schiavi cristiani, quindi italiani, francesi, spagnoli, in Algeria, Tunisia, che ancora non si chiamavano così, nel Nord Africa, e schiavi musulmani, barra altri, tipo i greci ortodossi, ma anche a volte degli inglesi, capitavano, e, assolutamente, degli africani, in Italia. Questa è un, mi ha molto colpito, questa fontana, perché si trova vicino Roma, e ci sono quattro schiavi africani, si vede tantissimo, incatenati, e quindi, e questo è importante perché, la gente guarda queste cose, nemmeno se ne accorge più, perché sta lì, e non la vedi più, e invece, lavorare sulle tracce, significa, non spaccare la fontana, che non è la mia intenzione, ma è capire, che cosa ci racconta questa fontana, ci racconta una storia di schiavitù, questa fontana, è la famosa fontana, almeno a Roma è famosa, è famosa nel Lazio, diciamo, che dà il vino, c'è anche una canzone romanesca, perché ogni anno, si svolge, la sagra dell'uva, e quindi, durante la sagra dell'uva, è coperta di uva, ci sono i tubi, perché la gente poi si accalca, cosa che ho raccontato nel libro, per il vino, però nessuno guarda gli schiavi, quindi, secondo me, è un esercizio anche, che dobbiamo fare visivo, no? Ecco perché, e dopo vi dirò una cosa su Bridgerton, questo è anche, effettivamente, Livorno, è una statua molto simile, a quella di Marino, che vi ho fatto vedere, vi ho fatto vedere prima, uscirei un attimo, dalla presentazione, perché vi ho fatto vedere, abbastanza cose, e questo per dirvi, scusate che riprendo, si interrompe la presentazione, perché, ecco, questo per dirvi, che, vi dico questa cosa, sulla serie TV Bridgerton, che non è che si sono inventati niente, la produttrice, che poi è la produttrice, di Grey's Anatomy, no? Shonda Rhimes, sa benissimo, che c'è una storia, di presenza nera, in Europa, no? Ci sono scritti, miliardi di libri, la Harvard University, ha fatto, miliardi di libri, se voi, andate su Twitter, c'è un account, che adesso, non posta più, quasi nulla, o anche sta su Instagram, credo, che si chiama, Medivial POC, poi ve lo scrivo, sulla chat, e, loro mettono, un sacco di, quadri, cose, e quindi, loro si sono ispirati, a questo, no? perché, per fare il blind casting, per metterci il duca di Hastings, così bello, ai tanti, eccetera, e non è che se lo sono inventati, l'hanno visto, cioè, c'erano persone così, quindi, è molto interessante, che, finalmente, questa cosa, sta diventando, sempre più pop, ecco, questo è, una cosa, anche perché, l'ultima cosa, il pop, cioè, che sia cinema, che sia musica, che sia serie tv, che siano romanzi, ci aiutano, a capire il passato, e a cambiare il presente, cioè, le narrazioni, servono tantissimo, perché, se no, uno, la vede solo, come una cosa storica, dice, vabbè, non mi interessa, però, in realtà, reso popolare, abbiamo visto, quanto interessa, mi pare, che la serie tv, ha avuto, 63 milioni di, spettatori, tantissimo, sta aumentando, lo stesso Lupen, no? Quindi, è molto interessante, quello che sta succedendo, secondo me, tra questi spettatori, ci sono anche io, anche mia mamma, tutte entusiaste, del Duca di Hastings, però, ho una curiosità, nel senso che, Bridgerton, o la serie Lupen, nascono in paesi, come ad esempio, il mondo anglosassone, l'Inghilterra, la Francia, in cui, comunque, c'è stata, forse, una riflessione, più forte, sui temi coloniali, e esiste anche, come dire, una produzione, post, che è stata definita, postcoloniale, in qualche modo, forte, sentita, sicuramente più marcata, rispetto all'Italia, in Italia sarebbe possibile, cioè, l'Italia è pronta, per opere, tipo, Bridgerton, Lupen, in cui, davvero, come dire, vengano superate, queste differenze. Allora, vi faccio vedere una cosa, secondo me sì, noi saremmo pronti, purtroppo, allora, io per fare questo libro, volevo farvi vedere una cosa, perché, scusate se vado molto avanti, con la, io ho lavorato molto, sul corpo, per fare questo libro, perché chiaramente, quando ero piccola io, non c'era niente in tv, cioè, proprio zero, io mi ricordo che, quando ero piccola, c'era un ragazzo nero dj, era l'unico, che metteva i dischi, si chiamava Sammy Barbeau, e veniva dalla Martinica, però, tecnicamente, dopo il vuoto, quindi, la prima volta, che mi sono sentita rappresentata, da qualcosa, che vedevo in tv, e che non era denigratorio, perché di solito, era, erano cose brutte, gente che ti imitava, gente che si colorava, la faccia di nero, cioè, era cose tremende, e, e, e la prima volta, è stata con la serie americana, saranno famosi, Fame, che adesso è molto, cioè, ci sono state anche, cover, remake, eccetera, però, tecnicamente, quella era la prima volta, che vedevo delle persone, tra virgolette, come me, studenti a scuola, che, avevano i loro problemi, che ne so, l'amore, il problema con i genitori, la scuola, cioè, il rapporto con i professori, cioè, era qualcosa, in cui mi identificavo. Allora, il problema grosso, è che in Italia, non si è osato, cioè, perché comunque, la, la popolazione di origine non italiana, non è poca, qui abbiamo persone che vengono da 195 paesi differenti, che hanno nel frattempo fatto figli, ormai i figli sono anche grandi, e i figli hanno fatto altri figli, insomma, abbiamo una società, non chiaramente come l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia, più transculturale in quel modo, però abbastanza mescolata anche qui, perché rispetto a quando ero piccola io, che c'era nessuno, adesso che ci sono un sacco di persone differenti, è diverso. Allora, è chiaro che secondo me, ci vuole gente che scrive, no? Perché anche le serie tv, anche i film, anche i podcast, anche la musica, deve essere scritta, e quindi c'è visione, gente che immagina altri orizzonti. Ecco, noi abbiamo cominciato a scrivere persone che hanno origine diversa, diciamo dagli anni 90, io no, io ho cominciato molto dopo, io ho cominciato nel 2005, però dagli anni 90. Oggi vediamo anche giovanissime che scrivono, no? E quindi, per me, per esempio, quando ho fatto questo libro, era molto importante far vedere la bellezza. Sembra una cosa stupida, ma la bellezza, è qualcosa che ci è stato molto negato, no? I nostri capelli, adesso, non fateci caso, io, così i capelli, così sono i miei capelli, sono, li ho tagliati, perché io ogni tanto faccio gli esperimenti, però tecnicamente i capelli afro, o i capelli tagliati, cioè, dovevi invece avere un standard molto bianco, e dove non entravi, non era il tuo corpo, no? Era molto, molto difficile. E quindi, anche banalmente, comprare un rossetto, a scuro, per tanto tempo, mica è stato semplice in Italia, quindi, piano piano, la cosa che io volevo fare in questo libro, è mostrare, tutte le dinamiche della memoria, il colonialismo, la schiavitù, la complessità di un corpo nero, che viaggia, le migrazioni, però volevo anche mostrare la bellezza, quindi, la bellezza, che è una forza interiore, oltre che esteriore, per me, no? E quindi, mi sono andata a trovare tutte queste foto, dell'ottocento, di donne, ottocentesche nere, e ne ho trovato parecchie, adesso ve ne faccio vedere solo alcune, guardate, cioè, molto belle, perché poi ho lavorato molto sui costumi, al contrario di Bridgerton, che quando io l'ho visto, ho fatto, si sono inventati i costumi, perché se li sono praticamente inventati, mischiando, che ne so, il Regency, il Regency è il periodo di Jane Austen, per intenderci, la scrittrice britannica, E però mettendoci, gli stracci, mettendoci cose che nell'ottocento non c'erano, io ho cercato di essere molto, molto ottocentesca, nel libro, e devo dire, e ho guardato però anche foto del primo novecento, tipo questa ragazza con la rosa, insomma, col fiore, primo novecento, perché aiutava un po', perché non avevo queste immagini negli occhi, semplicemente non le avevo, e quindi ho dovuto veramente fare una grossa ricerca, e vi spiego anche la copertina, questa è la copertina del libro, che non è casuale, io infatti ringrazio la casa editrice, perché, cosa ha fatto per me la casa editrice? Ha accettato questa copertina, lei si chiama, Ayanna Jackson, la potete seguire anche su Instagram, insomma, è molto, posta parecchie cose, vedrete anche su internet le sue cose, lavora molto sul corpo, anche sul passato del corpo, questa foto mi piaceva molto, perché era molto antica, che poteva essere ottocento, ma anche prima novecento, è una foto segnaletica però, quindi il corpo nero, che è ancora in qualche modo visto con lo stereotipo, con l'intenzione di ucciderlo, fargli male, o comunque criminalizzarlo, però con questi abiti antichi, quindi per me era una perfetta copertina, adesso esco, e quindi io spero, che ci siano molte più cose, praticamente ci saranno, io so che usciranno dei libri, io e la mia amica, ve lo dico adesso, stiamo facendo un podcast, e spero che ci ascolterete, insomma, piano piano stiamo cercando, ma non solo gli afro, un po' tutti, adesso non mi ricordo quale programma, l'altro giorno c'era una ragazza di origine araba, che dopo se trovo il nome del programma, ve lo metto sulla chat, insomma, c'è un movimento, c'è Jara Khan, che è una ragazza del sud Italia, che scrive, lei è di origine ganese, ma anche appunto campana, quindi è una prospettiva, la sua sud globale, sud del mondo, molto interessante, quindi sì, il problema italiano, è le produzioni, non sono le voci, gli artisti ci sono, sono le produzioni, che ancora hanno paura di investire, questa cosa, di investire nei film, ma anche banalmente sui libri, di dire, ok, ma questa cosa io investo dei soldi, ecco, questo è ancora un problema molto grosso, che vedo, e anche di resistenza culturale, perché comunque, la nostra Italia è bellissima, ma è anche un paese molto patriarcale, è molto eurocentrico ancora, quindi si deve un po' lavorare su questo. E a proposito di scrittori, che in qualche modo rappresentano, una nuova voce letteraria italiana, lei ha esordito anche con Pecore Nere, cioè c'è stato un lungo percorso, che va da questa famosa antologia, che io consiglio anche agli studenti di leggere, in cui molti scrittori, possiamo dire italiani di seconda generazione, hanno esordito sulla scena letteraria. Da allora ad oggi, cosa è cambiato su questa scena letteraria? Cioè, si è rafforzata, e trova spazio, secondo lei, adeguatamente anche nelle scuole, oppure cosa si può fare per promoverla? Allora, le scuole, secondo me, sono state la nostra salvezza, sempre, perché io ho sempre trovato un grande interesse, appunto, nella scuola, per testi come i nostri. Allora, qualcosa è cambiato, qualcosa invece si è interrotto, secondo me, perché quando, appunto, io sono uscita fuori come scrittrice, non sono uscita fuori nel vuoto cosmico. C'erano altri scrittori, molto prima di me, penso a Pacuma, che aveva scritto un libro, fino all'anno 90, io venditore di elefanti, sulla sua esperienza di ambulante, ambulante nelle città italiane, lui è senegalese, ha scritto questo libro a quattro mani, cioè, parlando a un giornalista italiano. La prima fase della letteratura è stata molto così, giornalisti italiani, che aiutavano migranti a scrivere la loro storia. E poi, piano piano, ci si affrancati da questo, e molti hanno cominciato a scrivere nel loro italiano, che questa cosa io la trovo meravigliosa, cioè, scegliere un'altra lingua, cosa che non è la mia vita, non è la mia esperienza, però, la loro esperienza è stata scegliere un'altra lingua, per comunicare con l'Italia, quindi, sono uscite dei testi pazzeschi in quel periodo. Poi, che cosa è successo? Siamo arrivate noi, cosiddette seconde generazioni, io, non amo tanto questo termine, perché, come dice un mio amico, non siamo secondi a nessuno, non siamo manco primi a nessuno, siamo, siamo, siamo persone, e, io penso che siamo italiani, punto, però, è ancora molto difficile, quando qualcuno ci vede, a me mi chiedono sempre, di dove sei, con questo accento, e quindi, è un po', fatico, cioè, dopo un po' che parlo, forse, uno dovrebbe pensare, sei di Roma, no? perché si sente, e, 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 e quindi, più o meno, siamo arrivate noi, è chiaro che non avevamo fatto, la scelta della lingua, la sapevamo già, siamo nati qua, e, e allora, che cosa, cosa è successo, con i fili di migranti, che i fili di migranti, hanno scavato, nella storia, infatti, uno dei libri, eh, interessanti, che sono usciti, è stato quello di Gabriella Germandi, eh, regine di fiori di perle, che è stato uno dei primi libri, sul colonialismo, però, poi, c'è stata Gabriella Curuvilla, che è indiana, Cristina Lifara, eccetera, poi, a un certo punto, le cate editrici, hanno perso proprio interesse, è stato molto difficile, per molti autori, continuare a scrivere, a pubblicare, perché nessuno li dava più, perché, guardate che, scrivere è facile, cioè, non è facile, è faticoso, eccetera, però, scrivere può, ognuno di noi può scrivere, pubblicare è tutta un'altra storia, cioè, allora, cosa è successo, che molti autori, che avevano pubblicato, non hanno più trovato, degli editori, che gli davano fiducia, se nessuno ti dà fiducia, tu non pubblichi, allora, molte persone, si sono perse, per strada, ci hanno cominciato a fare altro, a non crederci più, a demoralizzarsi, quindi siamo rimasti molto pochi, allora, e invece adesso, cosa sta succedendo? Adesso sta succedendo, che si stanno affacciando, le giovanissime generazioni, persone che hanno 20 anni, 22, 23, 24, 28, e questo, secondo me, è un fatto molto interessante, perché, stanno uscendo, molte, molte cose, io devo dire, ogni volta, lo dico con la mia amica Cristina, che mi sento una sopravvissuta, perché, comunque, abbiamo sopravvissuto, al periodo, in cui, nessuno ti dava retta, e siamo comunque, riuscite, a mettere dentro, i nostri temi, ed era, è stato molto faticoso, è stato un lavoro molto duro, però, adesso siamo, cioè, è bello, perché, in qualche modo, si è anche, creato un legame, con le giovani generazioni, io, per esempio, ho fatto un libro, l'anno scorso, che ho curato, che si chiama, Future, e tutti dicono Future, ma noi l'abbiamo intesa in italiano, il titolo, Future, dove ho messo insieme, io sono la curatrice, dove ho messo insieme, voci di donne afro-italiane, perché volevo, proprio, sentire le donne nere, o le donne anche arabo-discendenti, perché l'Africa è grande, quindi, l'Africa non è solo nera, badate bene, è anche araba, quindi, eh, volevo sentire afro-discendenti, e quindi, è stata veramente una bella esperienza, per me, perché, chiaramente, senti, vedi, vedi anche cose del futuro, ti confronti, eh, penso che adesso, da adesso in poi, cambieranno molte cose, almeno in letteratura, poi, è chiaro, c'è anche tutto un movimento di attori, che ci stanno provando, che stanno scrivendo, io, il podcast, per intendere, lo sto scrivendo con un'attrice, eh, lei è un'attrice di una fiction, Rai, è arrivata la felicità, credo, sì, eh, io mi sbaglio sempre, la fiction che fa Esther, Esther ha fatto sempre, eh, molte cose, ha fatto un film che si chiama, La Ba, e, e comunque Esther, Elisha, e io stiamo lavorando insieme, da due punti di vista differenti, io sono una scrittrice, lei è un'attrice, ed è bello, perché comunque, eh, è anche una cosa nuova per me, ma anche per lei, perché faremo una cosa audio, no? E quindi sì. Spero che poi ci farà sapere, quando verrà pubblicato il podcast, se così. Sì, sì, assolutamente. Bene, tornando su un altro tema, del romanzo, che forse in parte è stato già affrontato, nel romanzo però c'è una interessante appendice, che è un'appendice fotografica, che si, come dire, arricchisce in qualche modo il libro, dove è nata questa passione per la fotografia? Ah, la fotografia, allora nel libro troverete le fotografie, di Rino Bianchi, tra parentesi, scusate, non è, la fiction non è, è arrivata la felicità, è arrivata la felicità, è un'altra mia amica, però, eh, è tutto può succedere, la fiction che ha fatto, eh, che ha fatto Esther, con l'attore di Boris, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, però poi magari troverete voi, e, e tecnicamente invece la fotografia, le immagini in generale, non solo le fotografie dipinte, eccetera, sono qualcosa che nutrono proprio la scrittura, no? Anche perché, banalmente detto, viviamo in un'epoca di immagini, no? E quindi la scrittura, che è parola, però non può far finta che le immagini non esistano, e queste immagini, di solito, entrano nella mia, nel modo in cui, in cui scrivo. Poi la fotografia è stata molto utile per me, soprattutto in altri libri, quando ho lavorato sul colonialismo, no? Perché c'erano molti materiali fotografici, tipo i soldati che andavano in colonia, fotografavano, poi c'era l'Istituto Luce, cioè, e c'è veramente un corpus di materiale molto, molto grande, no? Io, se voi, non so, a scuola, vi consiglio di guardare il sito dell'Istituto Luce, è pieno di cose, cioè, ci sono video, cose che poi, veramente, anche assurde, e per me è anche molto importante vedere quei video, perché io sono di origine somala, e la Somalia, purtroppo dal 91, ha subito una guerra civile lunghissima, e molte dei monumenti che c'erano, non ci sono più, e quindi, paradossalmente, quei video coloniali, quelle fotografie coloniali, hanno una tratta, di quello che era il mio paese di origine, cioè, adesso, Mogadiscio non è più come io, l'ho vissuta quando ero piccola, quando andavo l'estate, o quando, appunto, sono rimasta lì a fare la prima media, la scuola italiana del consolato, ma è un'altra cosa, Mogadiscio è un'altra cosa, perché tutto quello che io conoscevo è stato distrutto, è un po' come Dresda, la città tedesca durante, la Germania intera, durante il secondo conflitto mondiale, cioè, se voi andate a Berlino, Berlino è nuova, perché l'hanno ricostruita, perché Berlino è stata bombardata, Dresda è stata bombardata, Düsseldorf è stata bombardata, io sono andata a Nover, a Nover non c'è niente di antico, perché è andato tutto a raso al suolo, e quindi, le cose del passato, rimangono paradossalmente, in queste cose coloniali, è assurdo, infatti io dico sempre che l'Italia, prima o poi, dovrà pensare di tornare in Somalia, a restaurare quegli edifici coloniali, perché sono edifici difficili, addirittura c'era un arco di trionfo, dedicato ai Savoia, però sono anche memoria della città, e quindi in qualche modo, restaurarli vuol dire, restituire un pezzo di storia, a una città che ha perso quasi tutto. Molto interessante quello che dici, anche perché qui abbiamo molti studenti, che hanno lavorato proprio quest'anno, sul tema dei monumenti, delle tracce scomode, del passato coloniale fascista, quindi queste sono riflessioni, che arricchiscono effettivamente, questo percorso, e sempre con gli studenti, noi quest'anno, abbiamo affrontato il colonialismo, anche in letteratura, leggendo alcune pagine di Tempo di Uccidere, e abbiamo anche ascoltato, una sua breve intervista sul romanzo, come si confronta con un testo del genere, che è un po' un testo raro, nella letteratura italiana, è un po' un caso unico? Allora, io credevo che fosse un caso unico, in realtà ho scoperto che ce n'è un altro, che si chiama La Settimana Nera, di Enrico Emanuelli, che uscirà a febbraio di nuovo, perché Mondadori a un certo punto, mi ha chiesto di fare la prefazione, io veramente non avevo idea di questo libro, era uscito nel 61, praticamente, e non parla di colonialismo, ma parla praticamente del periodo dopo, perché vi dico una cosa storica, spero di non annoiarvi, però ecco, questa cosa storica è importante, anche la Somalia, il mio paese di origine, ha subito il colonialismo, fino alla seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'Italia perde le colonie, però che cosa succede alla Somalia? Che l'Italia torna, come mandata dalle Nazioni Unite, voi sapete che ogni tanto, vengono mandate nei posti, per insegnare la democrazia, o portare la pace, dei paesi, altri paesi, o delle truppe ONU, eccetera, eccetera, che non è proprio un metodo bello, secondo me, perché nessuno ti può insegnare la democrazia, però quello che è successo alla Somalia è paradossale, cioè subisci il colonialismo italiano, poi a un certo punto ti dicono, viene qualcuno a insegnarti la democrazia, e quel qualcuno è quello che ti ha colonizzato, l'Italia, quindi l'Italia per dieci anni è tornata in Somalia, dal 1950 al 1960, quando appunto nel 60 la Somalia è diventata indipendente, questo libro qua è inventato negli anni 50, sono tutti italiani che stanno in Somalia, ed è un libro veramente tosto, anche difficile da leggere in qualche modo, però utile, io l'ho trovato molto utile, perché fa vedere che il colonialismo non è mai finito, cioè i comportamenti coloniali sono quelli che ci, anzi, sono peggiorati rispetto a quelli che ci descrive Ennio Flaiano, perché Ennio Flaiano comunque parla di una guerra, in un certo senso nella guerra succedono cose orribili, quantomeno il tuo frame mentale dice, vabbè è una guerra, è brutto, e lo sai che è brutto, è coloniale, è orrendo, però in qualche modo il tuo cervello, mentre nella lettura, se lo aspetta. Questa cosa del 61, la leggi, dice, ma non c'è la guerra, come mai continuate a trattare male le persone, a sfruttarle sessualmente, no, queste cose qui. Quindi secondo me i due libri sono molto interessanti da leggere insieme. Poi è chiaro, a me quello di Flaiano è piaciuto molto, perché comunque parla di un uomo che uccide una donna, che si macchia di un crimine, e poi però non lo paga questo crimine, no, è quello che è successo agli stati europei, gli stati europei ancora non chiedono scusa a mezza Africa, per il colonialismo fatto subire, addirittura ancora stanno colonizzando, non solo l'Europa, però stanno ancora colonizzando pezzi di Africa, pensiamo alla Francia, e quindi c'è un rapporto ancora ambiguo, pensiamo alle risorse, pensiamo a un paese come il Congo, c'è un bellissimo libro sul Congo, se vi va di leggerlo, è un po' a mattone, mi rendo conto, però è tipo un'autobiografia del Congo, però bellissimo, l'ha editato Filtrinelli, e capisci che il Congo, l'hanno sfruttato sempre, prima i belgi, poi le multinazionali, cioè le guerre, non è che sono lì a caso, le guerre vengono create, dividi ed impera, cioè dividi le persone, poi tu puoi prenderti il malloppo, questo è il colonialismo, e questo non è mai finito, cioè effettivamente è qualcosa che è terribile, e soprattutto viene fatto subire anche ai corpi singoli delle persone, cioè la colonia non è soltanto più un territorio, ma per esempio è una persona, pensiamo a quello che succede nei campi del sud, quando appunto vai a prendere i pomodori, cioè quelli che raccolgono i pomodori di origine africana, che vengono con i barconi, eccetera, vengono veramente ricattati, vivono malissimo, sono quasi in una situazione di semi schiavitù, e di semi schiavitù, uno perché hai viaggiato in quel modo, quindi non hai diritti, non sai se ti daranno mai documenti, eccetera, quindi accetti qualsiasi tipo di lavoro, sei sottopagato, a volte non sei pagato, quindi tecnicamente no, noi continuiamo comunque una catena di diseguaglianza, e questo è il punto, cioè io non è che mi sono occupata di colonialismo, solo per questioni familiari, perché poi sono di origine somana, ma perché quello che il colonialismo ha piantato, la diseguaglianza tra i popoli, è ancora lì, guardate i vaccini, cioè a me questa cosa dei vaccini, mi colpisce, cioè di gente che si accaparra tutti i vaccini da una parte, e sapete quante vaccini hanno fatto in Africa, di numero? 25, cioè che saranno sicuramente ricchi del paese, del continente, persone super ricche, non so di quale paese, ma 25, quindi in qualche modo, in Africa il vaccino chissà quando arriva, e questo in qualche modo fa capire, è che quelle diseguaglianze piantate durante il colonialismo, nel 400, nell'800, sono purtroppo vive, e stanno ancora insieme dentro, in mezzo a noi in qualche modo. Sì, infatti, come dire, proprio pensando anche al progetto che stiamo facendo a scuola, con gli studenti, è un progetto che, come dire, si basa sulla decolonizzazione, decolonizziamo le nostre menti, perché la colonizzazione è anche uno status mentale, di cui dobbiamo prima di tutto liberarci, mentalmente, per poi riuscire a estirparlo, anche dal punto di vista politico, quindi sicuramente è così. Io andrei verso la fine dell'incontro, perché è stato sicuramente molto intenso, e prima di chiudere, se ci vuole dare in qualche modo, vuole dare soprattutto agli studenti che sono qui, mi spiace che lei non li possa vedere, ma sono tutti molto attenti, molto attenti e molto entusiasti di questo incontro, e se vuole dare loro anche un consiglio, in qualche modo, su come dire, come avviare, e come proseguire poi, su questo processo di decolonizzazione, quali sono in qualche modo i consigli, anche letterari o culturali, che possono essere dati? Allora, è chiaro che io non sono un guru, e quindi anche io avrei bisogno di consigli spesso, però la cosa che posso dire, è quello che faccio io, cioè di conoscere le persone, e conoscere anche attraverso la lettura, è banale dirlo, però i libri veramente ci aprono dei mondi, libri, film, cioè tentare di andare oltre il proprio recinto, la propria bolla, soprattutto adesso, noi adesso siamo in una situazione di pandemia, ognuno di noi corre questo rischio di chiudersi in se stesso, siamo sempre davanti al computer, però dobbiamo pensare che uno usciremo dal computer, in qualche modo, e speriamo, c'era un film che quando ero piccola, mi spaventava a morte di una che usciva dalla televisione, speriamo che usciamo all'aria aperta, non in quella modalità, ma in una modalità felice, ma soprattutto leggere, cioè io vi consiglierei di leggere, per esempio, ve lo scrivo anche nella chat, Tony Morrison, James Baldwin, tantissime persone, Malcolm X, cioè veramente leggere libri degli afroamericani è utilissimo, a me è servito tanto, ma leggere anche afroitaliani, afro europei, un libro che vi voglio consigliare, è questo, io scrivo il titolo in italiano, però se lo leggete in inglese è meglio, perché si intitola Girl Woman Other, ed è veramente bellissimo, insomma l'ha pubblicato Sur, lei praticamente, cosa fa questa donna? Incredibile, mette, cioè è veramente appassionante questo libro, fa 12 storie, e tutti i personaggi sono afrodiscendenti, afro britanniche, ma di tutte, c'è molto la tematica LGBTQ, c'è la blackness, quindi il discorso sulla nerezza, l'essere europeo, poi le personaggi non sono tutte buone, hanno anche tutte le loro ambiguità, no? Perché non è che se sei nero, se sei buono, è in automatico, no? Cioè, anzi, e quindi più o meno, c'è di tutto di più, lei fa vedere veramente varie, varie cose, ed è un romanzo che si legge proprio così, quindi, ecco, secondo me, trovare queste cose, ma anche, no? Nutrirsi di queste cose, è la prima cosa che dobbiamo fare per decolonizzare la nostra mente, poi piano piano il resto arriverà, poi stiamo avanzando come società, quindi io penso che questa è la cosa che posso consigliarvi, perché la consiglio a me stessa, prima di tutto. Sì, sì, grazie dei consigli, poi in qualche modo li raccolgo, e li condivideremo con gli studenti, con alcuni di loro, ad esempio abbiamo letto anche Il pericolo di un'unica storia, di Cimamanda Ingoziadiche, quindi chiudo anche con quello, col fatto che, insomma, che in qualche modo lei sottolini come il razzismo sia il pericolo di un'unica storia, quindi raccontare agli altri, sempre, come dire, identificandoli con un'unica storia, non vedendoli nella complessità, quindi effettivamente è così, questo è un po' il percorso che stiamo facendo. Allora, io ringrazio tantissimo Ijabba Ascego, spero che sia soltanto l'inizio di una collaborazione anche futura, che potremo rincontrarci anche dal vivo, anche dal vivo a scuola, e grazie agli studenti, alle colleghe che sono qui in aula, grazie ancora, avremo modo poi di sentirci. D'accordo. Grazie. Grazie, ciao.